Studio ha integrata un'agenda che è molto simile a quella che è possibile trovare in strumenti come Outlook, etc. La cosa interessante ovviamente è che l'agenda, oltre a essere legata a riportare quelli che sono gli appuntamenti specifici per le pratiche, come abbiamo visto nei video precedenti, può essere sfruttata anche come un'agenda normale per i propri impegni, quindi riporta la visualizzazione del mese, dell'anno, eccetera, posso visualizzare viste giorno, settimana o mese, nel giorno specifico posso andare ad aggiungere quello che è il mio evento, eventualmente un cliente, eventualmente una pratica, ma se non c'è non è importante, ad esempio posso anche mettere informazioni, io non ho nulla a che vedere con quello che è il mio lavoro, quindi posso sfruttare le potenzialità di questa agenda per avere sincronizzato tutto quanto quello che devo andare a fare durante il mio mese o la mia settimana. Ovviamente ricordo sempre che l'agenda, se sincronizzata con un account Google Calendar, ovviamente se ne siamo in possesso, mi consentirà di avere queste informazioni anche in mobilità su tablet o smartphone.